Non si direbbe anche se paradossalmente tra i nuovi arrivi sei uno dei più grandi? Sì, ormai sono passati un po' di anni dall'ultima esperienza nel Città di Messia, però ci sono ancora i veterani che mi possono sempre aiutare, perciò posso sempre migliorare con loro. Campionato che si annuncia competitivo, voi siete un gruppo molto giovane, una bella sfida? Sì, è un campionato difficile, ho avuto la fortuna di farlo in passato, è importante, stiamo facendo un buon ritiro e ci stiamo divertendo, siamo consapevoli che è un campionato duro, però metteremo del nostro e faremo di sicuro un buon campionato. Una bella struttura, il pomeriggio si sta meglio anche climaticamente perché il caldo si fa sentire? Sì, anzi oggi è bene, durante gli altri giorni c'era ancora più caldo, però l'importante è che stiamo lavorando bene e andiamo avanti e speriamo di fare bene. L'obiettivo crescerà ancora dopo l'esperienza nel Camaro, peroltre in carriera hai avuto avventure come quella nella prima era del Trapani che sicuramente aiutano. Sì, aiutano tanto perché ci ho avuto la fortuna di stare in una squadra professionista, però anche qui è alla grande, è una società seria e non ci fanno mancare nulla. E' importante che stia bene quest'anno, è il primo obiettivo. Gli altri obiettivi sono fare qualche gol, l'importante è fare un buon campionato. Tanti giovani, poi avete anche questa piccola colonia sudamericana che si sta formando, come state accogliendo questi ragazzi? No, alla grande, alla grande, anzi parlano meglio di noi. No, alla grande, sono bravissimi ragazzi, si stanno ambientando per bene, bene, bene. Che campionato di aspetti, quali potrebbero essere le protagoniste? Si parla bene di qualche campana e poi c'è qualche società in Calabria e Sicilia che sta iniziando a muoversi, Castrovilla, Ricittanovese, Marsala. Guarda, ancora non so il giro, perché ora è fatto dell'Avellino che in Serie D, non so se lo mettono nel nostro girone, però se sarà così, loro vorranno vincere per forza il campionato. Però ci sono anche Castrovillari, ci sono buone squadre, però noi dobbiamo pensare a noi stessi e cercare di fare punti da subito.